Buona mia gente, oggi ci addentriamo nel mondo dell'ergonomia e del perché è cruciale per barbieri e hairstylists. Non si tratta solo di comfort, ma di massimizzare l'efficienza e prevenire lo stress a lungo termine sul nostro corpo. L'ergonomia non è soltanto un modo di dire, si tratta di progettare strumenti che lavorino con il tuo corpo e non contro di esso. Prendi queste clipper ad esempio GP84 e GP86, con il loro design ergonomico si adattano comodamente alla tua mano, riducendo lo stress e la fatica durante le lunghe ore di utilizzo. I clipper leggeri con l'equilibrio centrale fanno una grande differenza sul nostro lavoro quotidiano, sono più facili da manovrare, specialmente quando la precisione è fondamentale e riducono al minimo lo stress sui nostri polsi, consentendoci di lavorare in modo più confortevole ed efficiente. La presa conta, parliamo dell'impatto, dell'impugnatura e delle vibrazioni prolungate sulle nostre mani. Nel tempo questi fattori possono causare affaticamento muscolare, disagio e persino infortuni, ma con le giuste tecniche di presa e strumenti ergonomici possiamo ridurre al minimo questi rischi e mantenere così le nostre mani in salute. I clipper Panasonic affrontano queste sfide ergonomiche nel loro design, con caratteristiche come impugnature rivestite in gomma, distribuzione del peso bilanciata e ingegneria di alta precisione valorizzano sia le prestazioni che il comfort, rendendone una scelta di primaria importanza per i professionisti. Investire nei giusti strumenti non riguarda solo le prestazioni, ma anche il nostro benessere. Scegliendo clipper ergonomici come GP84 e GP86, ottimizziamo non solo il nostro lavoro, ma anche salvaguardiamo la nostra salute nel lungo periodo.